Attenzione a Padoini che al limite dell'area di rigore viene affrontato da un paio di versari palla indietro verso Guarente che serve Tiri Bocchi in area di rigore si gira il tir e serve ancora Guarente entra in area e viene messo a terra calcio di rigore, calcio di rigore per l'Atalanta è stato messo a terra Tiverio Guarente al quindicesimo minuto del primo tempo da un difensore del Bologna che è stato anche ammonito e quindi ci sarà un calcio di rigore in favore dell'Atalanta C'è soltanto la formazione nera-azzura dell'Atalanta in campo che continua ad attaccare, qualche istante fa ha agito di rimessa il Bologna calcio di punizione di Bouchet dalla destra col bui destra sotto misura di Divaglio che però non ha inquadrato la porta adesso c'è un calcio di punizione in favore della formazione bergamasca dalla tre quarti campo sul pallone ancora Tiverio Guarente che sta giocando sicuramente un'ottima partita già autore di un paio di pregevoli assist l'Atalanta ha sprecato un calcio di rigore con Valdés al sedicesimo un rigore calciato malissimo dal Cileno centrale la sua conclusione ecco la punizione battuta da Guarente direttamente in porta golla! Rete! Splendida golla di Tiverio Guarente da 35 metri un sinistro che ha colto di sorpresa a Viviano è andato a infilarsi all'incrocio dei pali Atalanta 1 Bologna 0 che giornale! L'Atalanta in vantaggio con Simone Padoin cross dalla destra per Cevantone che ha calciato in porta ha respinto Robinho e sulla respinta appunto di Robinho è arrivato Padoin che con un tiro al volo ha messo in rete quindi quando siamo giunti al tredicesimo Atalanta 1 Livorno 0 il marcatore Simone Padoin o c'è anche di 18.000 Mettere! Ernesto! Scevantone! 1.2 a 0 dell'Atalanta al quarto minuto della ripresa palla filtrante di Guarente per Scevantone tu per tu col portiere lo fulmina Atalanta 2 Livorno 0 Golla! E gol di Ferreira Pinto all'ottavo minuto adesso è il secondo palo per Ferreira Pinto che interviene in spaccata e mette in rete Atalanta 3 Livorno 0 3! Il raddoppio dell'Atalanta con Simone Tiribocchi è scelto sulla destra Padoin ha messo un pallone in mezzo è intervenuto di testa Tiribocchi ha messo la palla in rete 7 minuti di gioco Atalanta 2 Parma 0 Bene Riccardo perfetto così 2 a 0 altro gol Lazio siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa la Roma è passata in vantaggio un paio di minuti fa grazie al rigore siglato da Marco Borriello quarta rete in campionato per lui adesso avanza Lazio sul settore destro del campo proprio con lo svizzero Licksteiner di fronte a un avversario prova all'allungo Licksteiner contrastato da Riese cerca il cross ci riesce colpo di testa di Flockari che spiora l'incrocio dei pali Lazio vicina al pareggio la reazione c'è la reazione c'è da parte della Lazio vediamo se procurerà qualche cosa se produrrà qualcosa il Milan 18.41 sul cronometro 1-0 per la Roma calcio di punizione per la formazione di Claudio Ranieri batte Riese palla lunga cercare Marco Borriello interviene Stendardo di testa la mette fuori ma ancora la Roma con Vucinic Vucinic al limite tra i piedi prova il lancio sulla sinistra per Hernanes solo davanti al portiere il tiro del brasiliano il miracolo di Giulio Sergio veramente un miracolo quello del portiere giallorosso che salva il risultato un bel pallonetto di Mauri per Hernanes che ha calciato al volo è stato bravissimo in uscita Giulio Sergio a dire di no ma ancora la Lazio in possesso palla tre quarti campo della difesa giallorossa Hernanes in possesso della palla scambia con Mauri palla dentro per Flockari forse è un po' lunga ma Sergio Flockari riesce a mettere giù il pallone interviene molto bene Cassette che gli ruba il pallone va giù calcio di punizione per la Roma Francesco Flocki non so se vi potete sentire c'è stato un contropiede di Possanzini che si è trovato solo davanti a Sereni è calciato a botta sicuro la palla si è stampata sul palo è intervenuto in seconda battuta Francesco Flocki ha ribattuto e nonostante l'opposizione di Pratagli la palla è terminata in rete pertanto quando siamo quindi giunti al 26esimo minuto di gioco Brescia 1 Torino 0 il rato 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 di punizione di spiego colpo di testa di Vincenzo Gliacuinta veramente è staccato in aria e ha messo il pallone di testa all'incrocio dei pali 1100 minuto di gioco Juventus in vantaggio Vincenzo Gliacuinta eh sì è una una capocciata vera proprio sì un è corretta perché Balotelli ora non è uno dei primi tre al mondo Rato Sampatoria in vantaggio con Daniele Mannini splendido gol ma veramente grande l'azione di Antonio Cassano sulla destra che ha saltato un paio di uomini ha servito Daniele Mannini che ha lasciato partire un gran destro a giro sul secondo palo quindi al diciottesimo minuto di gioco la Sampatoria si è portata in vantaggio Ero Roversi proprio nel finale al quarantacinquesimo minuto di gioco il Bordeaux di Laurent Blanc è passato in vantaggio con una splendida azione scende Jussier sulla sinistra palla in mezzo per Tremolinac di prima intenzione mette in mezzo per la corrente Ciamac sinistro al volo sul primo palo palla in rete qualche istante prima due minuti prima era stato Alou di Arra con un gran bot al volo da 30 metri a colpire in pieno l'incrocio dei pali a sfiorare il vantaggio per i Girondini Girondini che si sono portati in vantaggio quindi al quarantacinquesimo minuto di gioco e adesso al Bordeaux serve ancora un altro gol per qualificarsi Bene Roversi Stavo guardando la partita ho visto la partita presa da questa discussione bellissima ma da come l'ha raccontata Riccardo sicuramente vedendola non l'avrei capita così bene Era esaltante come l'ha raccontata No, davvero Bravo Il buon e bravo Roversi fatto Oh, oh, oh E' ancora messo in parte il pallonetto un gol incredibile splendido il gol di Messi il 3-1 un gol fantastico è partito palla al piede da centrocampo si è presentato davanti ad Almunia in uscita l'ha battuto con un cucchiaio splendido Barcellona 3 Arsenal 1 33esimo a Roma è entrato anche Alessio Cerci al posto di Motta adesso Taddei fa il terzino a destra Cerci l'esterno alto entra bene in area di rigore finta doppia finta prova a mettere il pallone in mezzo è molto bravo Canini a contrastarlo a mettere il pallone in calcio d'angolo l'ennesimo corner l'ottavo in favore della formazione giallorossa si incaricherà della battuta proprio lui il francese Jeremy Menesse che studia il piazzamento dei compagni palla corta in direzione di Perrotta che gli rilieva il pallone Menesse entra in area di rigore prova al destro Totti su davanti al portiere Totti incredibile mette alto ha provato il cucchiaio dall'interno dell'area piccola colpo sicuro Totti ha messo il pallone alto sopra la traversa e c'è Roma Cagliari per quanto riguarda la Roma andiamo subito a vedere le formazioni non gioca Vucini ci problemi alla caviglia per lui quindi Claudio Ranieri giocherà con il Rombo Giulio Sergio in porta difesa 4 con Motta Burdisso Juan Erise i 3 di centrocampo saranno per rotta Pizarro De Rossi il trequartista Menesse in attacco la coppia Totti e Toni per quanto riguarda invece il Cagliari Marchetti in porta De Sena Canini Astori Agostini in difesa Nainggolan Conti e Biondini a centrocampo il trequartista Andrea Cossu in attacco Matri e Geda attenzione a Menesse sullo sottolestero del campo entra in area di rigore Menesse ha rifiuto l'anniversario lo salta Menesse va sul fondo in mezzo Gercatoni non ci arriva Vucinic gol il 4-2 della Roma alla 37esimo bellissima azione dei giallorossi con Menesse sulla destra che va sul fondo mette in mezzo velo di Toni arriva Vucinic piatto destro sul secondo pallo palla in rete 4-2 Roma sull'Udinese e c'è il pareggio del Bologna clamoroso autogol di Federico Peluso e il Bologna pareggia al 37esimo c'è stata una confusione di Gimenez sulla quale ha respinto in qualche maniera il portiere consigli certamente non una grande parata nel tentativo di rinviare Peluso ha messo nella propria porta quindi al 37esimo Atalanta 1 Bologna per argol sono prasole tutte quelle Все potre avere